Sostanzialmente l'ha fregato i selfie? Diciamo che mi piaceva apparire sui social network e questo è stato un indizio per noi per avviare le attività ispettive più pregnanti. Dall'auto di Lussa alla barca di oltre 16 metri, ormeggiata in un porto turistico toscano, insomma un altissimo tenore di vita che però sonava un bel po' rispetto al reddito denunciato. Per questo sono scattate le indagini della Guardia di Finanza a finire nei guai per evasione fiscale internazionale un consulente aretino che aveva nascosto al fisco un milione e mezzo di euro. Esattamente si trattava di un consulente esperto di telefonia fissa a pagamento che prestava la propria attività di consulenza nei confronti di varie aziende sul territorio nazionale. Il soggetto è stato individuato grazie all'attività di ricerca sul territorio di soggetti che hanno una capacità contributiva superiore a quanto dichiarano al fisco. Incrociando i dati con la sua dichiarazione dei redditi, nonché con il suo profilo Facebook, abbiamo visto che c'era non corrispondenza tra quanto dichiarato e quanto possedesse. Queste attività ci hanno consentito di effettuare un accesso mirato nell'abitazione del professionista e trovare nel suo carteggio degli estratti conto provenienti da società estere a lui riconducibili, situati in paesi quali Bahamas e Principati di Monaco, nei confronti dei quali sono stati esperiti anche delle rocatorie giudiziarie con l'ausilio della Procura della Repubblica di Arezzo, che hanno consentito di ricostruire un volume d'affari superiore a un milione e mezzo di euro. Le attività hanno consentito inizialmente una denuncia, però sotto il profilo penale non è stato possibile portare avanti le presunzioni di carattere tributario per effetto della normativa penale vigente in Italia e quindi è rimasta pendente esclusivamente la contestazione di carattere tributario. L'uomo si è avvalso dell'Istituto Deflattivo dell'Accertamento con Adesione, ossia aderito ad un accordo che gli è permesso di usufruire di una riduzione delle sanzioni amministrative e ha così provveduto a versare nelle casse dell'erario oltre 400.000 euro.